Dovremmo festeggiare Presidente perché avete raggiunto il playoff, però oggi che succede? Trovate il campo chiuso? Dovremmo festeggiare, c'è da vergognarsi in questa città, praticamente non c'è nemmeno la capacità di programmare, di aprire uno stadio. Non dico che l'hanno abbandonato e questo lo sappiamo ormai da anni, ma non riescono nemmeno ad aprirlo da un custode, non riescono ad avere un servizio minimo per far aprire lo stadio. Una squadra che deve fare i playoff deve allenarsi, è un lusso anche questo in questa città. E poi il giovedì avevate allenamento? Sì, assolutamente sì, però a quanto pare lo sapevamo solo noi, loro non sanno nulla, i custodi non sanno assolutamente nulla, è troppo. Oggettivamente aprire uno stadio per uno stipendiato del comune di Gela pagato con i nostri soldi è troppo. Non deve fare altro questo signore, aprire lo stadio e ovviamente si rifiuta di farlo. Ma è un problema che riguarda soltanto voi? L'ho chiedetelo all'assessore, non ne ho idea io di chi sia il problema da questo punto di vista. Noi certamente abbiamo un problema perché non ci possiamo allenare. Ma era già stabilito che oggi il campo deve essere aperto? Certo, oggi iniziano i playoff, è finito il discorso del calendario normale degli allenamenti. Ieri sera, oggi inizia la preparazione dei playoff. Purtroppo, e devo dire purtroppo, in questa città abbiamo due squadre che fanno i playoff. FUNA deve giocare il sabato, l'altra domenica. Ovviamente noi terzi giocheremo il sabato, credo, e ci dobbiamo allenare da oggi. Tutto programmato già da ieri. Evidentemente il custode vuole dell'altro, ha bisogno di altre spinde per aprirci lo stadio. Cosa vuol dire ha bisogno di altre spinde? È semplice, dobbiamo dargli il permesso di mettere gratis i banner pubblicitari allo stadio, dobbiamo dargli il permesso di far entrare decine di persone dall'ingresso privato del custode, perché altrimenti lui ci ricatta in questo modo. L'amministrazione non sa quello che deve fare, non sa assolutamente cosa fare, e siamo in balia di quattro persone che non hanno idea di come si gestisce una cosa banale come uno stadio. Grazie a tutti.